ciao a tutti amici di vespe motore molti di voi mi hanno chiesto informazioni riguardo i prodotti utilizzati nel video del trattamento del serbatoio ho pensato quindi di realizzare un breve video dove vi mostrerò i prodotti da me utilizzati si tratta di un kit vi arriverà a casa in questo modo con i vari opuscoli che ora andremo a vedere i prodotti sono questi abbiamo un toglie ruggine il prodotto e naturalmente il catalizzatore a seconda delle vostre esigenze come potete vedere abbiamo lo small il medium il big e il very big questo in questione è lo small che va bene per serbatoio fino a 8 litri ora non entrerò nel dettaglio su per quanto riguarda la procedura perché vi rimando al video che ho fatto comunque abbiamo il toglie ruggine va versato nel serbatoio agitare il serbatoio e lasciarlo agire per diverse ore qui abbiamo i prodotti che sono già premiscelati quindi l'intero contenuto di catalizzatore lo versiamo direttamente nel prodotto mescoliamo e se necessario vi consiglio di diluirlo come appunto anche nelle istruzioni con un circa 5 10 per cento di alcol etilico se volete utilizzare meno prodotto il rapporto di catalisi è questo per 100 grammi di prodotto questo servono 8 grammi di catalizzatore se utilizzate 200 grammi di prodotto servono 16 grammi di catalizzatore per 300 grammi naturalmente 24 grammi di catalizzatore naturalmente a catalogo ci sono altri prodotti che potete potete consultare vedete power tank bianco ceramico trattamenti per la plastica primer per la plastica abbiamo un po di tutto una volta una vasta gamma di prodotti all'interno del kit trovate una comoda scheda che vi spiega tutte le procedure la preparazione del serbatoio del capaggio l'applicazione eccetera la diluizione come vi dicevo prima è un prodotto molto molto valido che uso da parecchio tempo ditta italiana prodotto veramente ottimo metterò il link del prodotto in descrizione dove appunto poterlo acquistare per qualsiasi domanda potete come al solito contattare me oppure vedete ci sono dei numeri potete rivolgervi alla ditta quindi in questo punto non mi resta che salutarvi e ci vediamo in un prossimo video